Tre discaliche a cielo aperto sono state scoperte dalle guardie ambientali in un'area posta al confine tra campagne e contursi terme. Sul posto sono intervenuti il responsabile provinciale Marco Lucio Murano e la guardia ambientale Pasquale Babbaro, che durante un giro di perlustrazione hanno trovato diverse tipologie di rifiuti in località Serravalle. Presso i siti in questione sono stati abbandonati rifiuti di materiale vario. gomma, pezzi di carrozzeria, vetro, carcasse di animali, suppellettili, rifiuti plastici ed anche alcune lastre di Eternit.